Il 23.33, in questo martedì 3 agosto, stiamo ascoltando il Rock Mama, la cover band dei Pink Floyd, ancora un ascolto e ben sintonizzato, tutti i loro quali avessero acceso la radio solo in questo momento. Noi ci troviamo al Gibran, solo il 20.15, il Gibran che vi trovate al Villaggio Pasca Rosa, sulla strada provinciale, lo studio Martina Franca, al chilometro 10. Quindi naturalmente il nostro invito è ancora una volta quello di un'indicina a trovare, e quindi il video ci sono giungere la parte, anche perché insomma, i film di un interaccio, un palidone che stanno annunciati nella verità, da prima ora quasi volatilina, poi in successione daremo spazio ai suoni, ai suoni, ai suoni, ai suoni, ai suoi, ai fatti, ai ambienti, ai suoi estremi, e ad esempio in questa sera parlavamo con Flaio Perino, ma forse questa sera sarebbe stato un po' più una presenza di l'intruttore di una cosina ronde, quindi il conto è che sicuramente insomma il sapere di questo, questa sera, questa è la sera anche il mio canale l'ho sconata è sconata sicuramente la voce starta insomma quindi la cosa sarebbe stata più forte in un caso siamo ancora qui in diretta lo saremmo poter tutta la notte riparare la voce starta ora Oh, 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 oh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.